E' tornata a riunirsi l'assemblea permanente degli ex lavoratori ITR, l'incontro ieri pomeriggio nei locali del dopolavoro ferroviario di Isernia indetto da LED, il Comitato Lavoro e Dignità Molise. L'intento, quello di denunciare una situazione che di mese in mese diventa sempre più incresciosa. I 277 ex dipendenti dello stabilimento di Pettoranello del Molise, da quasi un anno, 11 mesi per l'esattezza, attendono il riconoscimento della mobilità in deroga. Nonostante i ripetuti appelli alla Regione, ad oggi nessun passo in avanti è stato compiuto. Di qui l'ipotesi prospettata anche nel corso dell'ultimo incontro di una denuncia da presentare alla Procura e alla Corte dei Conti. Prima di percorrere la drastica strada, per gli esponenti del Comitato c'è da attendere l'esito della discussione in Consiglio regionale di alcune proposte contenute in un documento, approvato all'unanimità dalla Seconda Commissione regionale, circa le misure da adottare per fronteggiare la drammatica vicenda. Duplice l'obiettivo, ripristinare la continuità degli ammortizzatori sociali per le annualità 2017-2018 naturalmente e, aspetto almeno altrettanto importante, il varo di politiche attive, ovvero di una serie di interventi tesi all'orientamento, alla formazione e al rafforzamento delle competenze per la ricerca di un lavoro. A margine riportiamo la presenza all'incontro di ieri di una truppa esterna della trasmissione di martedì di Giovanni Floris. Le interviste agli ex lavoratori in lotta andranno in onda dunque sulla 7 nella puntata del 4 giugno. È un percorso ormai che va avanti da un anno e i motivi sono noti. Aspettiamo questa mobilità in deroga ormai da luglio scorso, aspettiamo che il concordato del Tribunale dia a loro il 40% che aspettavano e aspettavano che la Regione in qualche modo dia seguito alle promesse di aver in qualche modo esaminato questo nostro progetto di lavoro per il rilancio. La Seconda Commissione ha liquidato ormai i lavori, saranno portati in Consiglio, noi speriamo bene. Ma certamente l'occasione è ghiotta perché un emittente importante nazionale ha acceso i risultati su questa situazione e la dimostrazione della difficoltà di questi lavoratori ma anche dell'importanza della nostra lotta che evidentemente assume aspetti a carattere nazionale. Senza dimenticare che noi stiamo parlando di 700 famiglie che lavoravano nell'ITR e che oggi ovviamente versano in condizioni molto molto critiche e la dimostrazione sta nel fatto che il territorio della provincia di Serna è totalmente svuotato di ogni contenuto. Grazie a tutti.